Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come installare Windows 11 senza problemi abilitando così anche il security boot perchè molte persone per scaricare e installare questo sistema operativo va attivato il security boot e certe volte ti chiede anche di attivare il TPM 2.0 quindi in questo caso il security boot e il TPM 2.0 vanno attivato sul BIOS della scheda madre quindi è una procedura non abbastanza facile per le persone che hanno appena iniziato a usare il computer quindi in questo caso in passato avevo realizzato un tutorial su come attivare un security boot su un gioco quindi in questo caso l'ho fatto su FIFA 23 quindi quello che devi fare è spegnere il tuo pc accendere il tuo pc e quando sta per uscire la schermata della tua scheda madre il logo della scheda madre sotto la scheda madre ci sono delle scritte delle scritte, dei tasti da premere per entrare nel BIOS quindi il tasto in questione a me era F12 canc il tasto per cancellare quindi tu fai F12 canc ci clicchi due volte o tre volte spammi finché non entri nel BIOS quindi una volta fatto se hai una scheda madre come questa in alto a destra come puoi vedere c'è la ricerca clicchi sopra e scrivi security boot se qui è disabilitato tu ci clicchi sopra e fai abilitato e qua su quest'altra modalità sotto metti custom una volta fatto tutto premi il tasto F10 e salvi tutta la configurazione poi una volta fatto tutta quella procedura sul BIOS andiamo a scaricare il nostro Windows 11 quindi in questo caso creazione di supporti e di installazione di Windows 11 quindi in questo caso tu scarichi un file ISO di 8-11 giga o non so quanti giga erano e lo metti sulla tua chiavetta spegni il tuo pc inserisci la tua chiavetta accendi il pc e automaticamente ti dirà di scaricare, installare e cominciare a fare una configurazione del tuo sistema Windows 11 sul tuo pc quindi poi sta a te decidere o scarichi questo supporto o downloada l'immagine ISO oppure questo fai il primo fai scarica cerchi sopra a me è già installato però questo è per quelli che non hanno nel Windows Update passa a Windows 11 quindi questo tutorial era per le persone che dovevano attivare il security boot e installare Windows 11 oppure fate la creazione di supporto per esempio scaricate questo accettate tutto le condizioni scegliete la lingua fate avanti poi qua ti dirà di scegliere il supporto da usare quindi in questo caso tu vai a scaricare e installare questo file ISO su una chiavetta USB una volta fatto chiudi tutto spegni il pc metti la chiavetta nel tuo pc e automaticamente poi comincerà a fare una configurazione ed installare poi Windows 11 ci metterà un'oretta però alla fine avrai Windows 11 senza problemi con il security boot attivato e basta se hai problemi commenta se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo tutorial